Giustamente immagino un genitore che sente il figlio dire guarda io mollo tutto e me ne vado in Australia, lascio unirsi, non so nemmeno cosa farò in Australia, non so nulla, sia preoccupante, faccia paura. Secondo me chi vive queste situazioni deve partire da questa consapevolezza. Dall'altra parte può sembrare un ostracismo che indica un non volerci bene, un non volerci felici, quando in realtà è solo paura. Io ho notato uno switch pazzesco nel rapporto con le persone che ho intorno nel momento in cui io ho iniziato a ottenere qualcosa di positivo dalla mia vita e dalle mie scelte. Cioè quando ho iniziato ad essere felice della mia vita, le persone intorno a me hanno iniziato a mollare completamente la presa sul tentativo di farmi cambiare idea e anzi è diventato un ti assecondo, spero che tu ce la possa fare. Sono arrivato alla fine alla conclusione che non siamo qui per giustificare tutte le nostre scelte nei confronti degli altri, perché alla fine a dire sempre di sì agli altri finiamo inevitabilmente per dire di no a noi stessi.